Ed eccoci qua tornati nuovamente in diretta da Talk Sicilia, il programma di approfondimento di Blog Sicilia che potete guardare anche sul canale 14, il digitale terrestre, il segnale di videoregione e l'estate sembra non voler finire mai, probabilmente perché quello che si annuncia appena iniziato, come appena iniziato è un autunno veramente caldo, i venti di guerra dall'Europa centrale, dall'Ucraina, il fronte che non si ferma mai, la guerra che sembra non finire mai e che probabilmente potrebbe stendersi, sta causando un dramma economico senza precedenti e i primi a cadere probabilmente potrebbero essere quei piccoli esercizi artigianali che rappresentano il meglio della produzione del nostro territorio, ma parliamo anche di imprese che sono essenziali perché rappresentano l'alimento base per eccellenza, il pane. Oggi in studio abbiamo con noi Angelo Chiarello, da 40 anni panificatore, benvenuto Angelo. Buongiorno anche a voi e grazie della vostra disponibilità di far sentire la nostra voce. Sì, noi abbiamo scelto questa volta di evitare di far parlare di crisi economica i politici, i sapienti, i dotti, ma vogliamo parlare con Angelo perché è un uomo che ha le cicatrici delle bollette energetiche sulla sua pelle. Angelo, che sta succedendo? Non lo sappiamo neanche noi perché ci stanno rivoltando così contro questa energia elettrica, perché non sappiamo la motivazione. In realtà il problema è una crisi che è nata già prima della guerra in Ucraina. Facciamo degli esempi chiari per chi ci ascolta. La bolletta del tuo esercizio, tu hai un'impresa che produce pane, biscotti, pizze, la classica boutique alimentare siciliana, quelle boutique tradizionali che non si fermano mai, che aprono all'alba e chiudono a fine serata, che sfornano il pane fino alle 8 di sera per i ritardatari come noi. È una cosa unica al mondo probabilmente avere il pane caldo e croccante, ma probabilmente è una dolcezza, un vizio che ci possiamo dimenticare se continuano avanti così. Certo, perché a noi ci stanno proprio, siamo compromessi noi, perché stiano dando delle brutte batoste, prima con le materie, prime e ora con la luce. Ci danno proprio la zappa nei piedi per non poterle rimanere all'impiedi, per cui un aumento del 400% non ci sta. 400% dell'energia. Facciamo un esempio, quanto pagava la tua impresa di energia un anno e mezzo fa, in media? Circa 2.000 euro. E adesso quanto siamo arrivati? 8.500 euro alla bolletta di agosto. 8.500 euro e ovviamente va anche detto che il governo appena annunciato, il governo e l'agenzia regolatore dell'energia, ha annunciato che a ottobre ci sarà un ulteriore aumento del 59%, del 49%. Ma a quel punto con una bolletta di 12.000 euro al mese di energia che fai? Cioè non potessimo reggere ora, figuriamoci con un altro aumento. Ma sta aumentando di nuovo il tutto a noi, ci dico. Dalle materie prime ci dicono sempre ora, ci saranno aumenti, ci saranno aumenti, perché l'energia a tutti brucia. Per cui dal piccolo al grande. E però incide molto di più con un'impresa di piccole dimensioni. Certo. Cioè la grande distribuzione magari riesce ad assorbire il colpo, perché spalma il costo dell'energia su più prodotti. Noi soltanto sulle materie prime abbiamo la lavorazione. Prendiamo la materia prima e la lavoriamo. Per cui quando c'è già tutto questo in aumento, in più la luce, non andremo mai avanti in nessun posto. Ora in percentuale la bolletta energetica, quanto rappresenta dei tuoi costi vivi operativi? Ma ora è più del 50%. E quindi teoricamente è un panino elettrico quello che noi mangiamo. Certo, noi apriamo la taracinesca la mattina e già ci vogliono 300 euro soltanto per la luce. 300 euro. Prima di iniziare a lavorare. È un costo che è praticamente insostenibile ormai. Insostenibile. Ma cosa, cioè vi state raggruppando un po' con... Io ho visto un po' di proteste in giro per l'Italia, c'è gente che ha bruciato le bollette. Cioè la situazione sta diventando incantescente. Voi cosa intendete fare? Vi state riunendo come panificatori? Sì, fino a ieri sera abbiamo avuto una piccola riunione a Piazzale Giotto con la Presidente... Piazzale Giotto a Palermo chiaramente, ma... con Fartigianato, la Presidente, e anche con un altro signore politico che sta cercando di darci anche una mano anche a lui, di portare delle nostre idee per andare avanti. Lui è portarle lui stesso verso Roma a farci sentire. In primis noi scendendo in piazza, perché arriveremo a questo. Arriveremo a questo. Sì, certamente, perché non si può stare aperto. Una volta che chiudiamo, cosa devono mangiare ai nostri figli? Tu, quante persone lavorano con te? Già siamo otto là dentro che lavoriamo. Otto, quindi otto posti di lavoro a rischio. Esatto. Quindi otto potenziali nuovi redditi di cittadinanza con un danno gigantesco per... È normale. Ho la cassa integrazione che sì, anche se chiudiamo e mettiamo i ragazzi in cassa integrazione. Chi pagherà il conto? Lo Stato. Che possiamo fare noi? Cioè, delle idee anche vostre, come aiutarci a noi. Prospettate il nostro futuro, perché noi non lo guardiamo. Non ne abbiamo vedute. Quanti, brutalmente, perché io voglio che la gente venga informata per capire quello che sta accadendo realmente. Cerca di stare distaccato dalla tua vicenda personale. Sì. Ma guardati dall'esterno. Quanti mesi di sopravvivenza hai a questo tenore? Quanto puoi reggere ancora così, in queste bollette? Se ci arriviamo a dicembre, non oltre. A dicembre, non oltre. Non oltre. Non oltre. Ma con grande sofferenza, ovviamente, perché si erodono i margini, non c'è più... Esatto. Cioè, tu ormai, la tua scelta è o pagare la bolletta o pagare gli stipendi, praticamente. Per adesso pago gli stipendi dei ragazzi. Perché queste bollette io non riesco a pagarle. Per cui, infine, se che si può, si tira avanti. Quando toglieranno la luce, chiudiamo. Perché io non posso lasciare quei... Mi vorrei di fare i miei operai. Loro lavorano. Per cui a casa devono portare qualcosa. È un grido d'allarme. Certo. Ma quanti siete, i panificatori, che siete in queste... C'è qualcuno che è riuscito, come vuol dire, a trovare delle soluzioni alternative? Non so... No, no. Non c'è niente. Siamo tutti... Perché siete imprese artigianali. C'è ancora dei vecchi contratti. Ma lo sai che a dicembre anche lui dovrà pagare quello che verrà? Ah, perché praticamente c'è da raccontare questa cosa. Certo. Chi ha fatto il contratto sul libero mercato oggi è particolarmente penalizzato. Noi sì. Chi è ancora sul tutelato, ma anche a loro stanno per cambiare le cose. No, stanno per cambiare, sì, è chiaro. Loro per ora siamo, per virgolette, un po' protetti. Noi no. Noi sul mercato libero abbiamo proprio da spaventare. Il contratto libero era necessario farlo in quel momento perché si prospettava una diminuzione dei costi notevole. E invece no. È stato un suicidio praticamente. Sì. Che poi non capiamo perché l'elettricità deve avere questo balzo così alto. Che non c'entra niente con la guerra del gas, con la guerra della luce. No, no, ma purtroppo l'abbiamo scoperto come funziona perché in pratica il prezzo del gas c'entra veramente poco perché l'Italia compra il gas a un prezzo stabilito con la Russia dieci anni fa e non è cambiato. Il problema è che l'energia viene venduta rispetto al prezzo del gas che viene fissato ogni giorno dalla borsa di Amsterdam dove si vende il gas virtuale. Quindi questo fa lievitare il prezzo di energia. Ma è chiaramente una speculazione. Una bomba, no? Una bomba atomica. La vera bomba atomica non c'è bisogno alla butta Putin, è stata già lanciata contro le imprese. Quanti siete i panificatori in Sicilia che rischiano di chiudere? Cioè la vostra categoria... Penso che un buon 80% rischierà la chiusura. L'80%. E diciamo praticamente ci troviamo come dire anche alla possibilità che non si trovi più il pane praticamente. Si potrebbe appoggiare esattamente alla grande distribuzione. Non penso che sia pane artigianale. Non siamo noi. Noi fino a 3 da sera sforniamo pane caldo. Ma non è che tu mi stai portando sulle tracce di quel famoso complotto di Agenda 2030 che dice bisogna produrre meno produrre tutti. La produzione deve essere fatta dalle grandi gruppi industriali e dai piccoli artigiani. Non è che c'è un attacco continuo alla piccola media impresa siciliana. Ma difatti se poi mi informa in Germania o in Francia che sia, queste grandi distribuzioni vanno avanti. Loro fanno il pane e poi lo dividono ai piccoli. Che in realtà sono punti vendita, non sono più laboratori. Esatto. E noi stiamo proprio rischiando di sparire, scomparire. Io però vorrei fare notare, come dire a chi ci ascolta, che giocare con il pane non è mai un play molto gradevole. Perché di solito quando scoppia la guerra del pane, noi abbiamo titolato così la puntata, di solito scoppiano rivolte sociali perché il pane è l'alimento base, soprattutto dei ceti meno abbienti. Perché poi noi... Non puoi levare il pane... Su tutto quello che è aumentato. Noi non abbiamo aumentato il pane. Perché poi è assoluto di aumentare il pane di 10 centesimi, 20 centesimi. Non si può fare, non conclude un bel niente. Quindi in questo momento tu hai dei costi maggiorati, ma non hai potuto aumentare il listino prezzi, se non gli altri prodotti accessori. Perché non si conclude un bel niente. Perché vai a vedere il prezzo finale che noi paghiamo di luce, questi soldi non si prenderanno né ora né mai. Perché se noi lo vendiamo a 4 euro, minimo lo dobbiamo vendere almeno il doppio. Per come paghiamo la luce del 400% in più... Cioè tu dovresti far pagare il pane il doppio di quanto lo facevi pagare un anno... E non è impossibile perché... Certo che è impossibile. Qualcuno ti viene ad aggredire sotto caccia... Però le spese nostre ci dicono questo. Tutto è aumentato, dall'A alla Z. Però il pane è rimasto quello che è. Facciamo un piccolo passo indietro. In realtà questa crisi del settore, che però è una crisi ovviamente che si estende per esempio al settore della chimica, al settore della metà meccanica, cioè non c'è un settore produttivo che non stia attraversando un momento drammatico. Tutti in sofferenza. Tutti in sofferenza. Ma diciamo, per quello che riguarda il settore della trasformazione delle farine, quando è che tu hai iniziato a capire che c'era qualcosa che... Una cosa che inizia probabilmente col Covid, no? Esatto, esatto. Proprio col Covid le materie prime sono aumentate. Che non si dice, ma perché? Perché mancano le materie prime, per cui c'è... Perché siano fermate le catene di approvvigionamento. Prima era la farina. Ora che è finita la farina? Beh, la farina c'è qualche difficoltà a ottenerla... Non è vero. Ma ecco, l'Ucraina non arriva qui, è chiaro. Non è vero, perché noi qua in Sicilia abbiamo il bel granaio d'Italia. Sempre detto questo. Però lavori con farina siciliana, ce la fai, è sufficiente. Noi potremmo. Noi potremmo. Non potremmo. È assurdo portare le farine... Ma allora a questo punto va fatto anche un discorso autartico. Riappropriamoci del nostro territorio. Esatto, esatto, sì. Ma tu non potresti fare una trasformazione, forse dico una sciocchezza, trasformare a energia rinnovabile la tua impresa. Quanto tempo ci vuole? Impossibile. Impossibile, siamo in un palazzo. Siamo in un... La tua azienda è in un palazzo e quindi... Come facciamo? A meno che non lo faccia l'intero condominio, si doti di un... Ma comunque sono anni, non hai la possibilità di resistere anni a questa crisi. Ma è troppo l'assorbimento che abbiamo noi. Non è un palazzo che dico ogni casa c'è un assorbimento. Beh, l'energia quanto vale nel vostro business? Cioè, le materie prime pesano per X per cento. L'energia quanto pesa? Al di là del valore, come dire, economico ormai quadruplicato. Per adesso, te l'ho detto, il 70% è l'energia che a noi brucia tanto. Poi le materie prime. È una cosa insostenibile. Esatto. La materia prima si è aumentata, ma non ha avuto un costo del 400%. È il 20% al massimo, è il 25%. Ma non del 400%. È una roba che non si è mai vista. No, completamente. In 40 anni che sono infilato nella farina, mai viste queste cose. Invece le farine, i prodotti da trasformazione, di quanto sono aumentati in percentuale negli ultimi due anni? Eravamo sui 40 centesimi, oggi la paghiamo 80. Quindi anche lì un raddoppio sostanziale. Quasi il doppio. Come facciamo noi? Come dobbiamo sopravvivere? Io so che però comunque vi state organizzando per fare delle manifestazioni pacifiche di protesta. Vi incontrerete questa sera a Palermo, dove tutti i panificatori artigiani di Palermo. Ma in sostanza che cosa chiedete al governo regionale e al governo nazionale? Di venerci incontro. Che peraltro in questo momento si erano ancora in sediare, quindi grande punto interrogativo su chi possa rispondere. Sa quando? Sa quando? Perché prima si doveva fare prima delle elezioni. Ora aspettiamo le elezioni, ci sono state. Aspetta, scusa, hai detto una cosa importante. Un provvedimento era stato promesso prima delle elezioni. Esatto, sì. E non è stata mantenuta questa promessa. Sono spariti. No, no, no. Cioè mi stai dicendo vi hanno chiesto i voti e poi sono spariti? Completamente. Chi parlava a destra, chi parlava a semistra. Completamente sì o completamente no? Proprio non li conosciamo. Ah, sono spariti? Sono andati. Più tutto io sono stato dal vicepresidente della regione a parlare con altri cinque panificatori. Gli abbiamo detto quello che a noi mancava, quello che potremmo fare. Lui ci ha detto vediamo di fare qualcosa. Vediamo di fare qualcosa prima delle elezioni o dopo? Ha detto prima. Prima delle elezioni. Non è successo. È scomparso. È scomparso. Il signor Armao. Va bene, questo diciamo, il professor Armao ha la querela facile, poi ovviamente chiederemo la replica al professor Armao per capire che cosa è successo, perché immagino che probabilmente non sia così semplice dare una risposta alle difficoltà economiche. Però noi che siamo a statuto speciale, penso, penso, non so se su statuto speciale la cosa serve per quello che abbiamo bisogno noi. Ecco, cosa chiedete appunto? Qualcosa si potrebbe fare? Perché non aiutarci loro a pagare queste bollette della luce? Probabilmente perché la regione è in difficoltà finanziaria pure lì, non ha tante risorse. Ma una domanda così, il PNRR, cosa è? Si sta rovesciando, mi fai tu le domande. Esatto. Il PNRR? Il PNRR, ma potrebbe darci aiuto anche a noi. Purtroppo credo di no, perché questi potrebbero poi rivelarsi aiuti di Stato, sono vietati dalla norma europea. Ma di fatto a noi serve lo Stato che ci aiuta. Però, ai sensi dell'Unione Europea, cioè stai arrivando, come dire, al vero problema, perché si stanno queste crisi, stanno mettendo in evidenza la difficoltà di rimanere coesi attorno al concetto di Unione Europea. Allora, la Germania sta risolvendo il problema dell'energia mettendo soldi suoi, una cosa che noi non possiamo fare. Perché? La Germania è diversa da un'Unione Europea. Non ha il bilancio in deficit come quello italiano. La Germania ha messo 200 miliardi sul tavolo per aiutare i suoi imprenditori e le famiglie. Noi siamo in difficoltà perché non possiamo usare questi soldi. Però questo significa che non ci sarà più una politica finanziaria comune europea, quindi si sta sbriciolando questa... Certo, io non do a torta alla Meroni quando ci dice, noi siamo italiani, dobbiamo salvaguardare l'Italia. Così invece salvaguardiamo l'Europa, che a noi e per noi cosa sta facendo? Nulla. Il tetto del gas non lo vogliono mettere, l'elettricità non la vogliono dividere. Dividere in che senso? Il gas da un lato, l'elettricità dall'altra parte. Certo, perché tu hai parlato della bolletta del gas, ma è pure una bolletta del gas che ti arriva in azienda? Sì, ma non è così esosa. Perché comunque non è un momento di lavorazione molto impegnativo. Esatto, a noi no, però penso che quelle che faranno cucina, almeno questo è quello. I ristoranti e le pizzerie cadono come se fossero i pezzettini dell'ego. Anche chi c'è i forni a gas si la sente questa botta. Quindi è un momento molto complicato e difficile. Allora, voi oggi in questi giorni vi riunirete, diciamo sul tavolo praticamente, che cosa chiedete a chi vi ascolterà, che sia il governo regionale o il governo nazionale? Aiuti, liquidità a noi serve per poter pagare queste bollette. Pochi maledetti subito per pagare le bollette. Perché noi queste bollette li possiamo pagare massimo al 20% del loro valore. Perché il 20% rappresenta quello che voi avete pagato. Esatto. In cui noi andavamo avanti. Non è che eravamo ricchi, andavamo avanti. Io garantisco all'advento che siamo 10 persone che lavoriamo, compreso noi. Quindi, oltre alla famiglia, come dire, qualche... E con noi stessi va avanti anche lo Stato. Ma è una struttura famiglia o familiare. Va avanti anche lo Stato. Perché paghiamo tutte le tasse e tutte le cose. E se poi dici di non pagare più nulla. Perché non puoi, con le spalle al muro come fai? È giusto. Mangio o pago le tasse? Beh, detto che un panificatore riesca, come dire, a porsi il problema di non riuscire più a mangiare, vuol dire che la crisi sta assumendo dei contorni veramente spettrali. Ma io vedo il mio operai, che mi dicono, signor Chiarello è arrivato a 500 ore di luce a casa, come faccio? Quindi c'è anche questo aspetto. Certo. Mi può anticipare, mi può aiutare. E mi mettono anche con le spalle al muro, giustamente. Sono operai. Il sistema bancario una mano te la dà? Credito? Però ti sta indebitando? Esatto. La voglio arrivare io. Se mi arriva una ballotta di 8500 euro, come mi metto un peso sopra per poter pagare delle bollette così? Non è che soltanto un mese mi arriva quella, pazienza, paghiamo quella, poi andremo avanti. 8000 euro al mese e poi a un certo punto la banca chiude il rubinetto. No, no, non c'era appunto per cui. Appunto. Non posso sostenere queste spesse. A noi serve chi ce li dà questi soldi per poter andare avanti. Dicono che la regione sta facendo qualcosa. Vedete un calcolo di quanto servirebbe per coprire le necessità del vostro settore? Almeno del vostro settore. No. Ma parliamo di 30-40 milioni di euro, immagino. Siamo sufficienti. Certo. Se già c'è un momento del 400%. Scusa, posso farti una domanda un poco crudele? Certo. Il problema del pane è un problema del pane, il caro pane legato alla bolletta del gas che è esplosa. È un problema che si registra in tutta Europa e probabilmente anche in altri paesi extraeuropei. Però noi in questo momento stiamo spendendo, immagino, non so quante centinaia di milioni al mese per mandare armi in Ucraina. Non trovi una situazione paradossale questa che noi spendiamo per far continuare il conflitto? Al di là del fatto che Putin sia buono, cattivo, Zelensky sia buono e cattivo, non prendiamo... Chiaramente l'Ucraina è stata aggredita, questo lo sappiamo, ci mancherebbe. La storia va in una direzione. Ma è un senso che noi spendiamo tutti questi soldi per le armi? Sì, io sono d'accordo ad aiutare gli ucraini perché sono in difficoltà. Anche noi siamo in difficoltà. Tu come Stato, come aiuti gli altri? Prima di tutto devi garantire il tuo popolo. Poi gli altri. Sarà un po' crudele. Però prima veniamo noi. Non è quella, significa essere realisti. Prima veniamo noi. A sfruttare le cose è un passo alla volta. L'Ucraina, sì, aiutatela. La state aiutando e nel loro stato la state aiutando. Ma stiamo aiutando veramente? Non lo so. Questo è un argomento troppo distante per noi che ci occupiamo della sussistenza quotidiana. E noi che siamo in difficoltà cosa dobbiamo fare? Abbiamo il nostro Presidente che chiede mai aiuto anche a lui? Presidente Draghi non si poteva. Alla meno di te chiediamo. Serve un Geleschi per risolvere il problema delle proglie. Scorsi. Cioè se colpio di Geleschi andiamo lì e facciamo... Io ho bisogno di voi. Aiutatemi. Aiutatemi. Andiamo così? Quindi ci vuole anche... Questa diciamo è satira politica. Ci vuole un po' più di piglio, di carattere, di polso per far bussare i pugni sul tavolo dell'Unione Europea. Molti miei colleghi per dire a Napoli o altre città hanno fatto delle manifestazioni. Ma quanto vedo che non vedo lo Stato che si muove. Nulla. Ma c'è il rischio che diventi una protesta anche un po' più vibrante e decisa. Ma è normale. A lei quando manca il pane per i suoi figli, lei cosa fa? Beh io divento pazzo probabilmente. Giusto. Giusto. E non siamo soltanto noi. Chi lavora per noi rischia di stare in mezzo alla strada. Sì, è un moltiplicatore infinito. Sì, è una cosa sociale proprio. Quindi lo sapevamo che sarebbe stato un autunno caldo, ma non immaginavamo che potesse essere realmente così caldo. Perché pensate un poco, mi rivolgo sia ad Angelo Chiarello che è stato così gentile essere il nostro ospite, ma anche chi ci ascolta. Se la crisi sta colpendo in maniera così dura il settore del bene primario per l'antonomasia che è il pane, immaginate tutto il resto del settore produttivo e in che difficoltà si trova. Penso alla zootecnia, penso al settore delle produzioni agroalimentari, penso al settore anche delle piccole imprese artigiane, ma come fanno? Noi ogni settimana facciamo degli ordini e ci dicono vedi che è aumentato. Sempre aumentato. Vedi che è aumentato, vedi che è aumentato. E noi tutti. Sembra, non si vede luce. Ogni settimana dobbiamo aumentare qualcosa anche noi. E là scoppia veramente una rivolta popolare. Noi al banco abbiamo dei problemi con le persone, con il cliente finale. Ma qualcuno già è andato. Certo, no, va di testa giustamente. Va di testa. Ma certo, magari un povero disoccupato, se gli aumenti di 10 centesimi il panino, che è l'unico panino che si mangia al giorno. Magari il pane, ma se o la rossicceria, o la pizza, o la pasticceria che sia. Purtroppo noi abbiamo proprio, ci stanno mettendo con le spalle al muro. Allora, noi abbiamo raccolto questo grido d'allarme di Angelo Chiarello, che testimone, come dire, l'impegno di tutti i pianificatori, panificatori, non pianificatori, scusate, ma probabilmente servirebbero anche dei pianificatori per risolvere questa crisi. Io ringrazio Angelo perché in un momento così di crisi, rubargli 25 minuti al suo tempo, è già un dono prezioso. Esatto. E speriamo che tutto vada per il meglio. Non oso dire, andrà tutto bene, perché quella frase ha portato veramente tanta sfiga. Angelo, che dirti? Noi ti siamo vicini. Noi vorremmo continuare a raccontare la vostra storia, sperando che ci sia un'inversione di tendenza e che le cose iniziano, come dire, a andare nuovamente verso una direzione più normale. Noi abbiamo fatto delle pressioni anche con Partigianato, con Commercio, e abbiamo detto delle situazioni nostre, i nostri problemi, che lo dico, porteranno a Roma per noi. Vediamo. Vediamo. Va bene, Angelo, ti ringrazio. Io ringrazio nuovamente tutti coloro che ci hanno seguito, ovviamente è un tema molto caldo, come questo fine estate abbastanza rovente. Nuovamente grazie e speriamo che le cose vadano meglio. Buona serata e ci vediamo al prossimo appuntamento con Talk Sicilia. Buona serata e ci vediamo al prossimo appuntamento con Talk Sicilia.